Musica Il gelato è tanto buono Io lo vencerò con te Il gelato è troppo buono Io lo vencerò per te Questa qui è la mia gelata C'è un gatto Un gatto nella mia gelateria Ma è insostenibilmente Adorabile Gatto cammina dove vuoi Ma sei bellissimo Sulla cucina Si può fare il gelato con i peli Forse dovrei aprire una gelateria Per gatti Ma che sta facendo Oddio ragazzi Buongiorno ragazzi Io sono Dominique E quello lì dentro Dovrebbe essere Eric Cioè insomma è Eric Che si finge O forse crede di essere Rod Il gelataio pazzo Vi ricordate di lui? Ma stavolta cosa vuole? Era da un po' che non succedeva Cosa ci fa qui? E che cosa vuole dal nostro gatto? Andiamo a controllare Mio bel cattino Lo vuoi un po' di gelato? Stai qui Aspetta un attimo E ti prendo un po' di gelato No 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 Ma questo le fa male E tu chi sei? Mi ricordo di te Ciao Anch'io Mi ricordo di te Purtroppo Sì ma adesso dove siamo? La mia cucina era diversa La mia gelateria era diversa Ma questa non è affatto male Poi c'è un freezer molto grande Posso entrarci tantissime gelatine Ok Sì l'altra volta eravamo in un'altra casa E tu dovresti essere Rod Giusto? O meglio conosciuto come il gelataio pazzo Fammi presentare Io sono Rod Il gelataio più bravo del mondo Ok se sei tornato per congelare gli slime Scorratelo Oh no 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 Nessuno slime Io sono qui per fare Il gelato di Pasqua Sì Il gelato di Pasqua Ah Pasqua Sì Pasqua è vicina mia cara gelatina Ti faccio una caffettina No grazie Io devo fare il gelato di Pasqua E tu gelatina ghiacciolina Mi dovrai trovare le uova di Pasqua Nascoste in questa gelateria In questa casa? Gelateria Ma non ci sono uova di Pasqua In realtà mi dispiace Non ne abbiamo comprate Perché ci sono? Piano E tu adesso devi trovarle Prima che ti congelo qui dentro Quindi vai Vai a trovare queste uova Ok 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 Ecco cosa vuole Abbiamo capito Vuole che trovi le uova di Pasqua Vuole che io mi metta a cercare Delle uova di Pasqua Dentro la nostra casa Ma io non ho idea di dove siano Le avrà nascoste lui Ok forse Fregati Ghiacciolina Pasqua invece Ti devi fregare Ti devi fregare se non vuoi diventare dolce Ok 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 Basta Iniziamo Lasciate like a questo video Se pensate che Eric sia troppo strano Iscrivetevi al canale E attivate anche la campanellina Però se è vero che ci sono delle uova di Pasqua Non è una cattiva idea È da un anno che aspetto di aprire delle uova di Pasqua Bene 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 Dove potrebbero essere queste uova di Pasqua adesso? Dove? Vediamo Vediamo un po' No Vabbè dai Le uova di Pasqua Sono grandicelle Non sono piccole come gli ingredienti dello slime Non dovrebbe essere così difficile Dove le avrò messe? Forse in cucina La cucina è sempre il posto preferito di Rod Andiamo Ma che sta facendo? Si guarda allo specchio? Con il gelato? Piazzolina Ma mi puoi sottolineare? Hai trovato le uova? 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 Ma quello lì è completamente fuori di testa È la seconda volta Già che mi fa prendere un corpo Accidenti Sarà meglio controllare qui in cucina Mentre lui non c'è Dove potrebbero essere le uova? Questa macchinetta del caffè Ha un po' una forma d'uovo Ma non penso che sia un uovo Dove potrebbero essere? No Aspetta un momento Ma non è che intendeva queste uova di Pasqua? Ma non sono uova di Pasqua Sono ovetti di cioccolato che vanno bene tutto l'anno Però effettivamente questi li avevamo già in casa Aspetta un momento Ma quello invece Ma qui dentro c'è un uovo C'è un uovo vero E questo qui non c'era Posso scommettere che io non avrei mai messo un uovo vero lì dentro Aspetta un momento Non è che intende queste uova? Ma no dai Volevo le uova di Pasqua Rod Scusa un attimo gelataio Sì Hai trovato un uovo? E io ho trovato questo qui E cos'è questo? Che cos'è? Quello Non è un uovo di Pasqua Quello serve per il cioccolato Sì Serve l'uovo Serve l'uovo Non mi dico Per il cioccolato Non mi ricordo Non mi ricordo Devi trovare le uova di Pasqua Quindi non è questo l'uovo di Pasqua Ma come? Non conosci le uova di Pasqua Ghiacciolina Vuoi che ti congelo? Sai trovare le uova di Pasqua? Tu riesci a trovare le uova di Pasqua? Riesci Andiamo qui dentro E chiudiamoci la porta Meglio star lontano da quel pazzo Controlliamo qui in camera da letto Magari ha nascosto qualcosa qui Certo che prima nasconde le uova vere E poi se la prende con me Ma ci saranno davvero le uova di Pasqua? Ho tuttora messa in scena Beh anche questo assomiglia a un uovo Ma non è un uovo È una lampada Vediamo dove potrebbero essere Forse tra i cuscini Sì Ma non trovo niente Aiuto No niente Dove le avrà messe? Serve un nascondiglio grande Almeno che non sia un uovo di Pasqua minuscolo È quello? Ma no Beh anche di quello vi posso confermare che non avrei mai messo un uovo su un termosifone È stato Rod Ma erano le mie uova Scommetto che le ha prese dal mio frigorifero Oh oh è caldo È caldo Giustamente Era sul termosifone Adesso cos'è? Un uovo sodo È diventato inutilizzabile Beh forse si può mangiare Però non so se ci si può fare il gelato Perché con le uova di Pasqua si può fare il gelato? Oh insomma sbrighiamoci Guarda Ciao Il cucchiaio è diventato più grande Cosa? No non è diventato più grande È che hai rubato il mio cucchiaio grande dalla cugina Cosa? Quella lì è la mia gelateria Ok ok te lo puoi tenere Sia chiaro Sia chiaro Io devo andare a cercare le uova Scusami Rod ma io vado Ok eccoci qui Qui dentro ancora non l'ho cercato Questa è la stanza più grande e la stanza principale Il gelato Ok magari l'uovo è qui Potresti fare un po' di silenzio? Scusami Dove? 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 Dove può essere? Le piante Dove? Dove? Dove può essere? Oh questo è il nostro libro Dove? Dove può essere? Dove può essere? Dove? Forse qui sotto Oh sta per cadere Forse qui Ma che uovo? Ma Rod E questo come me lo spieghi? E quello lì ti sembra forse un uovo? E quello che mi chiedevo anch'io Scusi signor gelataio ma questo qui come mai è saltato fuori dal quadro? Io non ne so niente e tu non hai trovato nemmeno un uovo E quindi mi vorresti dire che questo non l'hai scritto tu? No! Ragazzi io non l'ho scritto Cerca l'uovo! Ok ma vado a cercare l'uovo Vado 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 Ma mi sta per caso prendendo in giro? Ma che razza di gioco è questo? Mi dice di cercare le uova di Pasqua e non faccio che trovare uova vere e poi un foglio con scritto uovo Se mi sta prendendo in giro questa volta me la paga Beh diamo un'altra occhiatina Qui non ho visto Voi vedete uova di Pasqua? Vedo di tutto ma non uova di Pasqua Ci sono anch'io Uova di Pasqua? Uova di Pasqua? No non ci sono uova di Pasqua Oh qui dentro ho già controllato Praticamente ho controllato tutta la casa ormai Ma non ho trovato niente di sensato Ma che cosa devo fare per farlo smettere e farlo contento? Ci saranno delle uova di Pasqua qui? Saranno vere? Dove le ammesse? Qui ci sono davvero tante cose Cioè c'è il cibo del gatto C'è la lavagna I gessetti Peluche di ogni tipo Forse nella cuccia del gatto No Eppure dovrebbe essere un bel uovo di Pasqua Si dovrebbe vedere Solitamente hanno le carte molto appariscenti Dove? Dove? Oh ragazzi Vedete anche voi cosa vedo io Qui dentro Oh no forse Non qui dentro Ma lì dietro Eccolo Eccolo No vabbè c'è davvero Questo è un uovo di Pasqua Guardate Eh sì E questa qui Se vi stiate domandando cos'è Quella è la vita che Eric non ha mai abitato L'hai trovato L'hai trovato Dammelo Ehi È il mio uovo No 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 lo apro io Lo apro io lo apro io È mio Brava ghiacciolina Hai trovato le uova O l'uovo O l'uovo Però mi servebbe fare il gelato Dammelo Sì ma tu il gelato lo fai col cioccolato immagino No con cosa lo puoi fare Mica con la sorpresa Posso tenere la sorpresa No è mia Posso almeno aprire Ok Sono emozionata Sto per aprire il mio primo uovo di Pasqua dell'anno E sembra buonissimo È mio Ok però a quanto pare dentro ci sarà una sorpresa di Frozen Sono bellissimi Ok ok Lo apro Lo apro Apriamo ragazzi Questa è sempre la parte un po' più complicata Come si toglie Eh dai accidenti Ci sono Ci sono Sono curiosissima Che buon odore Eccolo qua Eccolo qua È il nostro primo uovo di Pasqua Lo apriamo Forza Lo spacco Non si rompe Ehi non si rompe Come lo rompo Ci penso io No ci penso io Ecco qua Oh se non sbaglio Quelli con il doppio colore Dovrebbero essere le sorprese più fortuna Eh stai facendo cadere il cioccolato Perché ne hai ferrato un pezzo Per fare il gelato Eric Chi è Eric Quello che ama tanto il cioccolato Posalo Vado Apro eh Sì È la sorpresa fortunata È di Frozen E guardate un po' Intravedo Anna Aspetta un momento Frozen Significa Ghiaccio Per questo hai preso quello di Frozen Rod Forse Io gelaterò E Dominic congelerò Poi la Leccherò Finché non si scioglierò Faccio finta di non aver sentito niente E monto la mia statuetta di Anna Guardate un po' No è carinissima Allora mettiamo il corpo Perché senza corpo non è molto carina Poi mettiamo anche le gambe Ed ecco qua Guardate E ci sono anche un pettinino E uno specchietto Che si possono usare come base Si uniscono Guardate che carini Sono a forma di fiocco di neve Mettiamo i piedi di Anna qui E tada Ecco qua È perfetta Carina no? Ok è arrivato il momento di darmelo No 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 Non te la do No è mia È mia è mia La tengo Beh Almeno mi ha lasciato il cioccolato Senza rubarne nemmeno un pezzettino E ok ragazzi Mi avete scoperto Sono Eric Cioccolato Chi è che deve tenere la sorpresa secondo voi? Comunque lasciate like a questo video Se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi E se volete altri video con le uova di Pasqua Suggeriteci qui sotto E iscrivetevi al canale Attivando la campanellina E seguiteci su Instagram Insieme al punto official E oggi salutiamo Gaetano Di Marzo Rebecca Ravelli Chiara Romeo Antonello Stallone E Amalia Miano Ciao ragazzi Un saluto a tutti quanti voi Ciao Vi vediamo troppo bene Ci vediamo domani con noi Ciao gelatini Insieme 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 Insieme